La tortuosa vicenda della famiglia Moneti sembrerebbe essere arrivata a un punto di svolta. La notifica di sgombero della loro casa, che era prevista per oggi 13 aprile, è stata nuovamente consegnata dal custode cautelare, ma senza alcun rilascio dell'immobile. Sesto rinvio nell'arco di quasi due mesi, ma nei primissimi giorni della prossima settimana Alessandro e la sua famiglia lasceranno l'appartamento. Una proroga resa possibile grazie al dialogo di questi giorni tra famiglia, prefettura e questura. Tra domenica e lunedì però i Moneti dovranno lasciare casa, trasferendosi momentaneamente in attesa di poter alloggiare nel loro nuovo appartamento a Loreto, per il quale hanno firmato un contratto che partirà dai primi di giugno. La sistemazione attualmente trovata per questo mese e mezzo è quella lasciata libera dalla zia del giovane 26 anni invalido, ubicata in via Cimarosa nel quartiere di Villa San Martino. Un'abitazione però di piccole dimensioni, che risponde a malapena alle difficoltà di Alessandro e che difficilmente potrebbe ospitare tutti e quattro i componenti della famiglia. Abbiamo parlato, abbiamo avuto una riunione con il prefetto in quest'ora, ci hanno dato fino al weekend, diciamo i primi della prossima settimana, perciò noi ci stiamo muovendo già questa mattina con i vari smontaggi dei mobili eccetera, e ci stiamo adoperando per cercare un box per appoggiare tutto il mobilio. Poi per la soluzione per noi stiamo valutando di trovare un posto per non dividere la famiglia in due, se si riesce, altrimenti staremo in appoggio a coppie. Magari si sperava di riuscire a non dover fare uno spostamento in più, ci avevano chiesto se eravamo disposti, abbiamo detto di sì, comunque adesso non troviamo una soluzione, però se dobbiamo adattarci ci adatteremo, quindi è la meno peggio per il momento. Questa mattina alla porta dei Moneti si è puntualmente presentato anche il custode cautelare Pratelli, che assieme a quattro polizzotti in borghese ha atteso la comunicazione da parte del prefetto di non intervenire. Ultimi giorni dunque per la famiglia Moneti nella loro ormai ex dimora in via Persoria, e ultime ore di sofferenza psicofisica per il giovane Alessandro, che a causa di questa tormenta ha rallentato drasticamente il suo percorso riabilitativo. In queste situazioni qui non sai mai come va, vedendo che comunque davano proroga dopo proroga, speravamo che comunque ci davano il tempo di rimanere, alla fine parliamo di un mese e mezzo, quindi non era un anno, però purtroppo la legge era da parte loro, hanno ragione, l'hanno acquistata regolarmente, quindi noi dobbiamo rispettare quello che ci dicono e ci chiedono. Speravamo di no, ma purtroppo dobbiamo adempiere. Insomma, ecco.